Cosa conterranno gli starter deck di Dragon Ball Super Fusion World? Quale tra essi potrà tornare utile a chi vorrà muovere i primi passi in questo TCG e converrà acquistarli? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. I guerrieri Z con tutti i loro amici e soprattutto nemici hanno finalmente fatto ritorno nel nuovo titolo targato sempre Casa Bandai che ha proposto una veste rivisitata ed un regolamento semplificato che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento portando una ventata di aria fresca ed avvicinando anche nuove leve alle dinamiche che muovono il titolo basato sull'opera immortale del maestro Toriyama. E come per tutti i GCC che si rispettino anche qui non potevano mancare i classici quattro starter che hanno visto Goku, Vegeta, Broly e Freezer fare il loro ingresso sulle scene proponendo dei deck pronti all'uso che già da subito garantiranno a chiunque vorrà provare le meccaniche del gioco un'esperienza ludica di tutto rispetto. E sarà proprio in questo video che ne esploreremo il contenuto andando alla fine a rispondere alle domande converrà acquistarli? E se sì, quale dei quattro? Signori, dalle statistiche di youtube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà il contenuto e se converrà acquistare i quattro starter deck targati Dragon Ball Super Fusion World. Andiamo a dargli un'occhiata. La scatola per ogni starter si presenterà con il rispettivo leader in primo piano in stato di risveglio, le icone della casa madre e le varie info del caso con il titolo del TCG e la carta per intero al riposo dello stesso leader sulla parte frontale, unicamente il logo del gioco sulla parte superiore, la decklist del mazzo contenuto nello starter assieme a una finestrella posta in basso dove compariranno sia Goku che la sigla del prodotto sul lato destro ed il titolo scritto per esteso assieme alla parte fronte retro della carta leader su quello sinistro ed il contenuto promozionale presente nell'articolo assieme a tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione potrete trovare al suo interno un deck composto da esattamente 50 carte più il leader di riferimento, un codice da riscattare sulla piattaforma online che vi permetterà di utilizzare il mazzo scelto anche in bestie virtuale, un energy maker ed un bonus pack dove troverete randomicamente una delle carte presenti nel mazzo in versione foil full art. In più sarà disponibile anche un foglio delle regole da poter consultare nei momenti di indecisione che fungerà girandolo anche come playmat se non disporrete inizialmente di una superficie adatta dove poter giocare le vostre partite. Ma vediamo più nel dettaglio il contenuto di ogni starter partendo dal primo arrivando al quarto. Il deck che vedrà Goku come leader sarà preso in considerazione come un raduno vero e proprio del settimo universo che è stato protagonista assoluto uscendone vincitore dall'amato e dallo stesso tempo odiato torneo del potere. Grazie al suo effetto in stato di awaken il super saiyan vi fornirà la possibilità di aumentare di ben 5000 punti il potere di un vostro personaggio sul campo per il corso di una battaglia permettendovi inoltre di pescare una carta quando sferrerà lui stesso un'offensiva. Vegeta proprio come il personaggio che è orgoglioso e guerrigliero vedrà il proprio deck orbitare attorno ad esso e possiederà un gran numero di carte all'interno del mazzo che favoriranno la discesa in campo degli alter ego pericolosi e pronti alla battaglia dello stesso principe dei saiyan. Il leader in questione in fase di risveglio durante la vostra fase principale una sola volta per turno vi consentirà di aumentare il proprio livello di forza di ben 15.000 punti se possiederete 7 carte o meno in mano permettendovi anche qui di pescare una carta quando sferrerà lui stesso un'offensiva. Per Broly invece il suo deck vedrà una raccolta ricca di nemici noti che Goku ha dovuto affrontare nel corso della sua storia e vedrà diverse versioni dello stesso leader minacciare la borda avversaria. Il super saiyan malvagio in fase di risveglio avrà un effetto molto interessante anche se a prima vista controproducente. Infatti durante la vostra fase principale una sola volta per turno potrete piazzare una singola energia nella drop aria per pescare una carta ed aumentare subito dopo la forza del guerriero spietato di ben 5.000 punti fino alla fine del turno. Infine Freezer radunerà nel suo mazzo tutto l'esercito che gli ha permesso di conquistare intere galassie e grazie ad esso riuscirà a portare a termine ogni piano che la sua mente calcolatrice senza scrupoli si prefiggerà come obiettivo da raggiungere. In fase di risveglio il capo dell'armata più forte di sempre vi consentirà alla fine del vostro turno di ripristinare fino a due personaggi alleati potendovi dare la possibilità di risultare aggressivi anche con eventuali blocker concedendovi come per Goku e Vegeta anche in questo caso di pescare una carta quando sfererà lui stesso un'offensiva. Quindi dopo aver visto il contenuto degli starter rispondiamo alla domanda converrà acquistarli e quale scegliere se si vorrà iniziare? Ogni starter verrà venduto ad un prezzo indicativo di 12 euro almeno così è indicato sul sito ufficiale e avranno una rosa di carte che nel complesso risulterà essere molto valida per ogni singolo prodotto. Quindi per tutti e quattro i deck ne consiglio a prescindere l'acquisto per possedere una solida base di partenza soprattutto se in vista di ulteriori compere rivolte nei confronti del primo set. Ma scendendo più nel cavillo se vorrete provare solamente il gioco magari con un amico o la vostra intenzione sarà buttarvi a capofitto nel competitivo Freezer e Broly saranno la scelta prendendo in esame solo se si vorrà un Goku ma in casi estremi come la mancanza di uno starter in negozio ad esempio. Questo perché integrando le singole ottenute da un box di espansione si riuscirà senza alcun problema ad avere un deck competitivo pronto per essere utilizzato in tornei locali o di caratura maggiore. Prima di concludere volevo ringraziare Davide della fumetteria Grande Inverno ed Alessandro Graziosi per aver fornito il materiale mostrato in questo contenuto. Quindi concludendo e ripetendo sì converrà acquistarli tutti così da avere una base di partenza pronta per essere utilizzata anche in vista di set futuri prediligendo al momento Broly e Freezer che ad occhi chiusi sono i migliori leader e i più performanti attualmente in meta lasciando parcheggiati gli altri due sfruttando però le carte dei rispettivi deck per mettere a disposizione di altri leader la loro forza distruttiva. Forza e coraggio quindi l'universo 7 ha bisogno del vostro aiuto e dal fianco degli eroi che più vi rappresenteranno inizierete scontri leggendari che passeranno alla storia e voi quale dei quattro starter sceglierete per iniziare il vostro cammino in questo gioco di carte collezionabili? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video.